Per la settima giornata di campionato l'Arezzo calcio femminile ospita il Brescia al comunale. Avvio shock per le ragazze di Laria Leoni che dopo 30 secondi dal fischio d'inizio subiscono il vantaggio delle Lombarde. Il Brescia recupera palla in attacco sfruttando un errore nella ripartenza a Maranto e dopo un bello scambio Berti supera Bartalini portando le ospiti sull'1-0. Le padrone di casa provano a reagire e lo fanno al dodicesimo. Sugli schemi di un calcio d'angolo fracas colpisce di testa, la palla però finisce a lato di poco. L'Arezzo continua a provarci e sono tanti i cross dalla sinistra che Lorieri mette in mezzo ma la sfera non entra. È il trentaseiesimo del primo tempo quando il Brescia trova il raddoppio. Un rinvio della difesa lombarda diventa un lancio millimetrico per Sobal. Bartalini è fuori dai pali e la numero 11 del Brescia ne approfitta con un pallonetto. Arezzo 0, Brescia 2. Si va a riposo con questo risultato. Nella ripresa le a Maranto provano a rimettere in piedi la partita creando anche alcune azioni pericolose ma senza riuscire a trovare la porta. Ne approfitta allora il Brescia che al minuto 75 trova il terzo gol. Ancora Sobal che realizza la doppietta personale sfruttando un cross basso dalla destra. Al triplice fischio il risultato finale dice ACF 0, Brescia 3. Seconda sconfitta consecutiva per l'Arezzo calcio femminile che rimane al sesto posto in classifica. Quota 10 punti ed è pronta a cercare riscatto nel prossimo impegno con il Cesena.